E' appesa ad un decreto ministeriale la speranza di vedere arrivare ad Arezzo i 17 milioni di euro che serviranno per riqualificare le periferie. Senza questi soldi i lavori non potranno essere portati avanti. I finanziamenti sono stati congelati nel decreto mille proroghe ma il Comune di Arezzo è l'unico che ha già presentato tutti i progetti in fase esecutiva e questa potrebbe essere la sua salvezza. Questo nuovo decreto interverrà nei prossimi una o due settimane nel momento in cui il mille proroghe è nella fase di attesa per la conversione in legge. Quindi io credo che Conte, lo conosco anche personalmente, sia un galantuomo e abbia dato una parola che intende rispettare. Mi aspetto dai partiti di maggioranza di governo, uno dei quali sostiene anche la mia maggioranza consigliare che queste parole non siano come taluni sostengono parole al vento. Io credo nel governo, credo nel premier. Noi non ci fermiamo, non ci siamo fermati prima, non ci stiamo fermando adesso. Bisogna che qualcuno ci scriva che non sono più validi gli impegni presi. Questo ancora non è avvenuto. Abbiamo notizie ovviamente di stampa, notizie legittime che il mille proroghe ha preso una strada che non ci vede finanziati. Ma abbiamo la parola di un uomo politico importante che ci dice che invece il finanziamento avverrà. I tempi sono quelli, ripeto, di qualche settimana per avere il decreto. Quindi ritengo che noi facciamo bene, e in questo sono perfettamente in linea con altri sindaci che sono esattamente nelle mie stesse condizioni, ad andare avanti.